Senti, adesso mi fai un esempio con il verbo scorrere. Sì, scorre Java nel suo letto. Ma Pierino, cosa dici? Vuole che faccio l'analisi logica? Sentiamo. Scorre, predicato verbale. Java, soggetto. Java è un fiume. Suo, aggettivo possessivo. Nel letto, stato, il luogo. Ma Pierino, Java è un mare. Il mare di Java. Non è un fiume. Come fa a scorreggiare nel suo letto? Ha detto scuro già. E basta! Per adesso va bene così.